Ok, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qua nella mappa Oli dei Resort 2 e con Ale, sì, ok. Facciamo team da due in una partita da sei. Dai, ok, commenti giù, commenti che siamo... No, perché... Ma chi ti caga? Vorrei giusto spendere due parole sugli hacker su questa partita. Sempre che riusciamo a portarla a compimento, magari non ci facciamo uccidere, stiamo insieme, cazzo. Già siamo in sei. Ecco, ecco, c'è uno che chiede tutti già. Niente, spada, che palle. Mori, 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 bestia, bestia, mori. Hai la spada? Sì. Ok, vai. Prendo tutto, prendo tutto qua. Ci sei, ci sei, ci sei qua, ottimo. Allora. Che palle. Ah, mi ha aggiunto anche altri fiumi. Sì, ho visto. Niente, in questa partita vorremmo parlare un po', io vorrei parlare un po' degli hacker. Oh, non è morto nessuno, cazzo, ma potevi killarli. Eh, eh. Non è così si diceva. Un po' degli hacker, che comunque, nonostante che siamo nel 2016... Nonostante che... Che siamo, sì, 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 nonostante che siamo nel 2016 e che, teoricamente, a livello, ripeto, teorico, gli MCSG dovrebbero essere hacker free. Perché, cazzo... Tieni questa. Una Gapol. Ci sono ancora, ancora, tanti hacker. Questa è una roba inaccettabile, perché, Cristo Santo, allora... Non è... Allora, non ci vuole molto a capire che chi citta, se lo banni una volta, poi non ritorna più. Perché, come cazzo fa a ritornare? Sì, ma porca puttana. Aspetta, aspetta. Deve aspettare altri sette giorni. Grazie. Oppure deve farsi un altro account. Per farsi un altro account deve pagare 20 euro. Dubito che riesca a rubare altri account. Magari ce la fanno, ma, Cristo. Perciò, basterebbe semplicemente andare a fare dei controlli, dei controlli, in live. Cioè, non in live su Twitch, streaming. In live, inteso, andare partita per partita. Tanto, i moderatori possono entrare e non si vede che entrano. Watching qua a destra rimane zero. Non si vede in chat che sono entrati. Soltanto chi... No, basta, non si vede. E debellano gli hacker. Controllano gli hacker. Se c'è qualcuno... Magari, non so, fanno una... Non so, gli sviluppatori, i mod, fanno una statistica. Chi ha fatto più kill in quella partita. Tu vai a controllare chi è che ha fatto più kill in quella partita. Magari se c'è uno che ha fatto 6 kill. Vai a vedere quello che ha fatto 6 kill. Vi vai a vedere le stats. Se è uno di stats intermedie, cioè non così buone. O che magari ha iniziato da poco, eccetera. Sono tutti segni di hacker. Non ci vuole molto. Quanto ci perdi? Ci perdi, non so, 10 minuti, un quarto d'ora, non di più. Ma poi sono centinaia di moderatori. Ma appunto, cioè, quello che dico io non è che sono tre moderatori. Sono ovunque i moderatori. Se tu vai sul ts.mcgamer.net Si trovano un bordello di moderatori che stanno cazzeggiando nelle stanze. Ora, io non dico che non devono divertirsi. Per carità, non sono mica poliziotti, pagati dallo Stato, niente. Però, porca miseria, almeno fare dei controlli, delle ronde. Le cosette ronde, no? Nella realtà ci sono, no? Vabbè, insomma. Le fate sui server, porca miseria. A parte che ci sono i report, perché se voi fate slash report il nome e poi sei... Soprattutto possono basarsi sulle lobby dove entrano i giocatori reportati. Appunto, appunto. Voi andate... Esatto, voi non riuscite a beccare il giocatore reportato in live. Fa niente. Lo seguite. Tanto hanno un comando per logarsi. Ci sono tre chizi, guarda. Il punto è che io non ho una spada buona. D'accordo, non riuscite a beccare il giocatore reportato in live. Levati, 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 levati. Sto orando, non ho preso una volta. Aspetta, Ed, 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 torna indietro, girati, girati. Ah, 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 gapo, 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 gapo. Spingimi. Bravo. Bravo. Ok, buona azione di corale. Niente. Fare delle cazzo di ronde, tanto più o meno chi è stato reportato lo sanno, e andare a controllare, a bannarlo. E non mi sembra che lo facciano. Questa è una mia impressione. Poi, non so se voi avete avuto questa impressione. Perché comunque, se voi andate a girare sui server, chi cheita? C'è sempre. Ci sono sempre cheater. Cazzo, io dico, ma non ci vuole molto. Porca miseria. È il vostro, tra virgolette, lavoro. Ma poi, scusate, scusate un secondo. Voglio dire. Gli MCSG, come... Come si dice? Come... Ah, stai girando uno. Come hanno un guadagno, che sono costituiti dai donor, che donano. Ora, capisco che devono pagare i server. Ma, porca miseria, ma fare dei tipo dei premi... Non so, chi trova un hacker, chi banna un hacker... I moderatori che banno un hacker, gli diamo un euro. Un euro. Ozzo! Gigi. Gli diamo un euro. Cazzo, non ci vuole tanto. Vedresti fiotti di moderatori che si vanno a... Che fanno una vera propria gara per gli hacker. Eh, vincchia che figata. Cioè, sarebbe una cosa intelligente. Perché poi, perché poi... Attenzione, non sarebbero dei soldi messi a... Sprecati, perché... Sarebbero un investimento per... Esatto, sarebbe un investimento, perché un server privo di hacker è un server meritevole di donor. E un donor... Quanto costa un donor patin? 100 euro? 80, oddio, poi ci sono dei soldi. Ah, facciamo 80, facciamo 80. Minti, ma 80 euro? Facciamo 80. Quanti hacker si possono bannare con 80 euro? 80? Perché se fai un euro ad hacker... 80 euro... Ad hacker, proprio ad hacker. 80 euro, 80. 90. Cazzo, non mi sono fatto le frecce, sono un pirra, sto parlando. Eh, chi cazzo? Sono io, sono io, sono io. Ah no, ce l'ho, no, ce l'ho delle frecce. Come hai messo l'altro? Ma... Ogni volta... Che ritardato, cazzo. Sarebbe ogni volta... Quanti nuovi donor riuscirebbero ad avere? Di più di uno. Quindi, secondo me, se investissero tipo 100 euro, ok? Avrebbero almeno 3 o 4 donor in più. Ogni 100 hacker bannati, più o meno. Aspetta, 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 facciamo una cosa, deathmatch. Senza armatura, spada in legno. Ok. Eh, bruciamola. Vieni qua a bruciare tutto. Aspetta, un attimo, butto. Non c'è... ormai sono qui. Quanti... Quanti... Dai, fai. Quante frecce? Piuttosto mi servirebbe cibo. No, niente, niente, solo spada. Ok, ci vediamo. Aspetta, prendo un attimo da mangiare. Sì. Ok. Hai i cuori della Gapol? No, no. Dai, 3, 2, 1, 2. No, nemmeno... I'm sorry. Solo spada, eh. Dove sei? No, no, mi ha ucciso. Bastardo. 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 5 cuori. Hai laggato. Eh, lo so, ci siamo entrati a vic... Forse hai laggato tu, però, vabbè. Ci siamo entrati a vicenda. Oh, sti cazzi, comunque il video lo puoi caricare sempre qui. No, 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 lo carico perché è un discorso decente, è un discorso intelligente, secondo me. È argomentato con tese, antitesi e... Agroventa, agroventa. Agroventa, cani del capo. No, niente, vabbè, il discorso era questo. Era semplicemente che si potrebbero eliminare gli hacker in questo server, è stato che... Il cazzo di Chad e di DJ... Niente, bisogna... Cioè, si fa di LSD, va bene. Ok, bravo. Se vuoi usare i soldi per... Dei donor, per la droga, va bene. Bravo Chad. Una posa a Chad. Niente, io questa partita la carico sostanzialmente soltanto per il discorso alla fine del gameplay. Vabbè, è stato quello che è stato. Però... Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.